Ogni giorno in Italia 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge una persona su tre oltre i 65 anni. Nel mondo l'ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone, 7 milioni solo in Italia, pari al 12% della popolazione. Una buona notizia in Abruzzo per quanti hanno problemi uditivi e devono acquistare un apparecchio acustico? Perché è stata prorogata dalla regione Abruzzo la possibilità di avere gratuitamente l'apparecchio acustico. Un esempio virtuoso, l'Abruzzo è l'unica regione ad avere dato questa possibilità nel panorama nazionale. Proprio è stata la nostra regione la più virtuosa da questo punto di vista perché rendere più semplice il processo, l'iter per arrivare alla fornitura dell'apparecchio acustico completamente gratuito, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha reso la sofferenza per chi, magari per le classi anche meno abbienti o anche per chi semplicemente vuole veder riconosciuto un proprio diritto da cittadino, di avere l'apparecchio completamente gratis. Ci sono dei requisiti, ad esempio l'invalidità civile e una determinata soglia di sordità per poter accedere a questo. Ma in questo la regione, appunto l'Abruzzo, è stata davvero virtuosa e adesso la proroga è arrivata fino a fine maggio e ringraziamo quindi l'assessore Verì e naturalmente il direttore dottor Damario che hanno capito che proprio in questo momento di emergenza l'udito non va trascurato. E per ascoltare in sicurezza il consiglio è sempre il solito. Ai primi segnali di abbassamento dell'udito rivolgersi subito a uno specialista. La prevenzione è fondamentale.